Con i proverbi dei vecchi i giovani morirebbero di fame. Testimonianza di Giuseppe Macario, detto Beppe il Fre, nato a Rubilante, classe 1929, artigiano. Se vogliamo capire perché il contadino non è ancora un uomo libero, dobbiamo tornare un momento al suo passato. Qui a Malandree di Rubilante la campagna era povera, qui vivevamo con due vacche e un po' di castagne, l'altra risorsa era la legna, prendevamo all'appalto i lotti del comune e poi aspettavamo che le piante crescessero, aspettavamo anche vent'anni prima di tagliare quelle piante e questa attesa era una scuola di rassegnazione, di pazienza. C'erano le squadre dei boscaioli che andavano a Valdieri, a Intracue e nell'alta Vallestura, sempre a piedi, e là prendevano i lotti a contratto dalle imprese, tanto al miriagramma di legna resa in basso, prendevano a farla a prepararla e a scenderla a trasportarla a valle. Vivevano mesi e mesi nelle baracche di rami di paglia, al mattino un pezzo di pane, alle undici una fetta di polenta, dall'alba al tramonto a tagliare con la scure, a pulire i rami, a fare fascine. Un lavoro massacrante. Lavoravano come bestie e guadagnavano a mala pena da mangiare. Come veniva l'inverno? Giù con le slitte per portare la legna in basso. Poi cominciarono a usare le funi metalliche, le cordine tese, alle quali agganciavano i fasci della legna. Il boscaiolo scendeva lungo le corde tese per ingrassarle, così le disgrazie erano frequenti. Quasi ogni anno ne moriva uno di robilante. Vuole un'idea della povertà di una volta? I vecchi facevano il testamento, poi quando morivano agli eredi restava magari un pezzo di terra largo come una stanza da dividere, la terra vicino ai casei, alla casa. Oppure, se la terra era più abbondante, c'erano magari dieci figli, dieci eredi. Allora la terra restava indivisa. Uno o due figli continuavano a lavorare la terra ricevuta in eredità e pagavano l'affitto ai fratelli che emigravano. Malgrado questa miseria, il nostro contadino riusciva a risparmiare. Il libretto dei risparmi lo teneva alla posta dopo che il piccolo credito era fallito bruciando moltissimi risparmi. Prendiamo i ragazzi di una volta, quelli del malandrè. Alcuni uscivano dall'isolamento facendo l'esperienza da vacchè, non sempre positiva. La gioventù aveva energia da sprecare, la necessità di parlare, la curiosità di confrontarsi, il movimento della vita insomma. Se i giovani restavano chiusi in casa, non vedevano niente, non sapevano niente. Allora si ammucchiavano, si radunavano all'altezza del pilone. Sette, otto, magari stanchi come bestie. Andiamo in veglia là? Andiamo. Nelle stalle c'era disciplina, padre e madre che vegliavano insieme. Se uno dei partecipanti alla veglia era solo un po' libero nel parlare. Interveniva subito il padre o intervenivano gli altri viur a richiamarlo all'ordine. Era con la veglia che si conoscevano le ragazze. Quando un giovane voleva chiedere la mano di una ragazza, si faceva aiutare da due o tre amici. Andavano in quella stalla come se niente fosse. Poi, come il padre usciva dalla stalla, l'interessato lo seguiva. Gli diceva, se fosse contento io avrei l'idea di mantenere l'amicizia con la ragazza. Bene, io ne parlo poi in casa e ti diciamo poi qualcosa. Magari il padre non diceva poi più niente a quel giovane e tutto finiva lì. I matrimoni erano poco liberi, venivano tanto organizzati dai vecchi, si guardava tanto la roba. Anche la storia dei matrimoni ci insegna qualcosa, ci aiuta a capire l'ambiente di allora. Il matrimonio era una festa importante. Anche le famiglie modeste organizzavano il pranzo in casa, magari con la cuoca del paese. Prendevano a prestito i soldi. C'erano due o tre persone, contadini o esercenti, che imprestavano i soldi, le cento o le duecento lire. Non erano surai, erano persone onestissime, che si accontentavano di un piccolo interesse. Erano i ricchi di allora, che tutti stimavano, che tutti guardavano con rispetto. Oggi ci sono magari i miliardari qui a Robilante, ma non c'è più chi ha bisogno. E anche questo vuole dire un po' di libertà acquisita, la libertà di chi non deve sempre e comunque dipendere. Se sono religiosi o superstiziosi i nostri contadini? Come giudicano il prete? Parlo degli anziani e dei vecchi. Ormai non esistono più contadini giovani. Era gente che credeva. Quello che diceva il prete veniva dal cielo. Prima di dare inizio alla semina, il contadino si faceva il segno della croce. Le famiglie dicevano il rosario tutte le sere. La messa era un dovere sacrosanto. Credevano proprio in Dio. Al malandrè c'era Don Massa, come parroco, un bravo prete, che ha lasciato un buon ricordo. È morto tanti anni fa, ma la gente continua a essere religiosa nel suo ricordo. Ed è giusto che sia così, perché Don Massa l'aiutava la gente povera. La comunità del malandrè era abbastanza unita. La gente doveva aiutarsi a vicenda se voleva sopravvivere. Quando in una famiglia c'era una disgrazia, un morto, accorrevano tutti a offrirsi. Alcuni provvedevano a ciadrà, a cudià le bestie, a seguire i lavori più urgenti. Altri organizzavano i turni per vegliare il morto. Era una gara a chi poteva fare di più. Il rosario ammucchiava, ossia radunava, giovani e vecchi. Il rosario lo dicevano intero. Ecco com'era la povertà di allora. Andavano a chiamare uno dalla vallata, un falegname, che saliva su con la scura e la sega e costruiva la cassa nel cortile del morto, con i quattro assi che trovava. Mio nonno, parlo di 60 anni fa, in casa teneva la mala, che è il baule, la cassa panca e una piccola catasta di assi. Ma togliete un po' di quelle tavole, quegli assi da lì. È solo un vivaio di topi, gli diceva sempre mia nonna. Dovesse morire qualcuno, non hai nemmeno più due assi per metterlo dentro, gli rispondeva mio nonno. Anche mio zio, dietro al sofà, aveva na mala de post per farsi la cassa da morto. La famiglia che non aveva la cassa da morto era un disonore, come una famiglia che oggi non riuscisse a pagare le spese del funerale. L'ambizione di oggi è di avere la cassa da morto più bella dei mobili di casa. La cassa di una volta era invece semplice, così semplice che a volte la paglia del giaciglio spuntava dalle fessure. Al funerale partecipavano tutti, caricavano la cassa su un carretto, il corteo appresso, man mano che si scendeva a valle si univano quelli delle altre borgate, così fino a Robbilante, dove c'era la vettura ad aspettare. Ancora oggi la tradizione del funerale è molto radicata. Anche i giovani abbandonano il lavoro, lasciano la fabbrica per partecipare a un funerale. Quando un giovane incontra un vecchio che si lamenta della salute, il giovane gli dice vuoi farmi perdere la giornata per andare alla tua sepoltura? Legata al funerale c'era la donazione. Oggi la dona è scomparsa perché non ci sono più poveri, ma tanti anni fa i ricchi facevano dire la messa con la dona ai poveri. Come finiva la messa sulla porta della chiesa veniva distribuita la pagnotta di pane ed erano sempre in tanti a riceverla. E poi c'era il chiusiment. Era così fino a dieci anni fa. C'era cioè la donazione al bisognoso di tutto il vestiario del morto, scarpe, vestiti, biancheria, cappello, tutto che andava in suffraggio dell'anima dello scomparso. Chi ne beneficiava doveva essere virtuoso, cioè una persona che portasse poi con dignità le cose del morto, una persona devota che andasse in chiesa. Non certo un ubriacone o una leggera. Era un po' questo il nostro mondo di una volta. Un mondo dove la povertà e le leggi della sopravvivenza avevano un peso determinante. Lei mi dice che il contadino di fronte a certe domande, a certi argomenti, si blocca, ha paura a rispondere. Non è tanto la paura, è la prudenza. Prendiamo il periodo della guerra partigiana. La gente di quell'epoca era diventata per forza prudente. Si può dire che la gente di qui teneva quasi tutta per i partigiani, ma aveva sempre paura di sbagliare. E oggi la gente marcia ancora un po' con quella cadenza. Hanno preso quella prudenza lì nel parlare e sentono che ancora oggi non possono confidarsi completamente. Forse c'è anche un po' di paura. In quei tempi là bastava che ci fosse un partigiano da poco e quello screditava tutti gli altri. Quando passavano i partigiani della valle, i giovani del posto conosciuti, la gente non aveva paura, la gente era tranquilla. Ma e gli altri? Con il cuore la gente era dalla parte dei partigiani, ma il giudizio era severo. Dopo la liberazione sono tornati i prigionieri. Avevano sette o otto anni di vita militare e la guerra sulle spalle. Erano stanchi e malati. Non sapevano, non capivano che cosa era successo durante la loro assenza. Non pochi dei partigiani erano ragazzi. Erano giovanissimi, alcuni del 1926, e non potevano aver fatto grandi cose. Comunque erano rimasti quasi a casa. Erano rimasti nella propria pallata. A vedere questi qui che facevano i galletti, a sentire in famiglia il discorso del vitello, della pagnotta di pane, del telo da tenda. Nei prigionieri cresceva la critica. Il bucin, il micun, il pan, il telo da tenda che magari i partigiani avevano chiesto o preteso, non erano cose grosse. Erano solo balle, ma con la critica diventavano cose grosse. Era un giro così. I contadini sono sempre stati sottomessi a un regime di vita così, sempre a subire, e allora si giustifica la loro prudenza. E nella testa dei contadini c'è non poca confusione. Sono d'accordo con lei. Guardiamo un momento che cosa era la vita militare per i contadini. All'arrivo della cartolina precetto organizzavano la festa dei coscritti. Il giorno prima della visita medica si faceva già la festa, alla visita si arrivava ubriachi. Poi altra festa, al paese. La classe invitava al pranzo il sindaco, il prete, e avanti con un'altra sbronza. Insomma, due o tre giorni di festa grossa. Nessun contadino andava volentieri a fare il soldato. Non parliamo poi della guerra. Ma che cos'era la patria per noi? Ebbene, una buona parte di quelli che hanno sofferto con la guerra oggi partecipa ai raduni, alle adunate degli ex ereduci, si mettono il cappello d'alpino in testa e via. Non avevamo voglia di fare il soldato. Non volevamo la guerra. E vanno ai raduni. Allora non erano poi tanto stufi della vita da soldato. Dicono che vogliono trovarsi tra di loro. Ed è giusto. Ma con quel cappello alpino che gli ha rovinato la gioventù, che cosa hanno votato e che cosa votano i contadini? La gente del malandrè vota forte democrazia, ossia democrazia cristiana. La religione ha fatto del bene a questa gente. Don Massa è morto 15 anni fa e la gente continua a votare democrazia nel suo ricordo. Con l'arrivo dell'industria la nostra collina si è spopolata. Ormai i giovani sono scappati tutti. Eh, i giovani di oggi non ragionano più come i loro padri. Nel passato i contadini parlavano con i proverbi, regolavano la loro vita con i proverbi. Oggi i giovani dicono. Con i proverbi dei vecchi, oggi i giovani morirebbero di fame. Su a Snive vivono ancora tre contadini anziani. L'inverno scorso è scesa molta neve e dei tre di Snive non avevamo più notizie. Allora Gian Battista pensa. Saran vivi? Saran morti? Infila gli sci e sale fino a Snive. Come arriva in vista della casa di Bastianin? Sente il cane che abbaia. Vede che Bastianin esce dalla baita e guarda il tetto. Oh, credevo fosse venuta giù la spallata di neve dal tetto. Cioè che la neve fosse scivolata giù dal tetto, esclama Bastianin. Perché il cane, se non è per la spallata, non abbaia più. Grazie. 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 Grazie.